Derby di cartello domenica al Gran Sasso all'Aquila tra l'Aquila a 1927 Chieti che il Reteotto trasmetterà in diretta con telecronaca a partire dalle ore 14. C'è grande attesa per questa gara, importante da diversi punti di vista. La prevendita per la tifoseria ospite è stata polverizzata a qualche minuto dall'annuncio dell'apertura della vendita dei 300 tagliandi. La società Rosso Blu spera ovviamente in una buona cornice di pubblico per una bella domenica di sport innanzitutto. Domenica ci aspettiamo una bella cornice di pubblico e si spera di avere una bella giornata di sport. Ovviamente derby sentito, invito tutti i nostri tifosi a venire allo stadio e sarà una giornata bellissima da passare insieme. Per il Rosso Blu è un buon momento dal punto di vista dei risultati. La formazione aquilana ha vinto a Matese e la striscia dei risultati utili ha fatto vedere una squadra capace anche di soffrire. Con i nuovi volti del mercato tanti, ma presi sempre nell'ottica di un miglioramento della rosa, che si sono già ben inseriti, come afferma il capitano Rosso Blu Alessandro Brunetti, che per questa gara così particolare chiede ancora di più il supporto dei tifosi aquilani. Tutti a disposizione di mister Roberto Cappellacci per domenica. Adesso che abbiamo la rosa completa abbiamo avuto tempo per lavorare e i frutti si stanno dimostrando in campo con i risultati. Domenica abbiamo una partita delicata come un derby, partita difficile. Noi daremo il massimo impegno e la massima concentrazione e abbiamo anche bisogno, quindi l'invito che faccio è di venire allo stadio perché abbiamo bisogno di una mano in più per portare a casa il risultato.